ben ragazzi siamo i granassi siamo tornati che cazzo ah addio dio devo venire luce dietro allora siamo tornati con un nuovo video nuova challenge oggi la challenge sarà cosa c'è nella mia mano sulla mia mano nel dorso della mia mano e ovviamente ci servirà la bella noi ci prenderemo così e l'altro metterà in mano all'altro il pene no qualcosa e l'altro dovrà indovinare insomma cosa c'è nella sua mano e niente possiamo partire con la sfida il primo a bendarsi sarà lui io e ce la cerca in mano vabbè il primo a bendarsi sarà lui e io gli metterò le cose in mano oh yeah ovviamente mi avvicino per farvi vedere cosa ho preso in mano e lo che ha preso in mano e quello che prenderà lui vabbè cosa qua eeeh ho paura ok è che sto schifo che cazzo è che è? che è? è demote no? ma che è una cicca? è schifo sono tutte le mani il cenere era la cicca della mia sigaretta ma vaffanculo e meno male che non t'ho messo tutta la cenere in mano dai allora la prossima cosa è una cosa molto easy molto molto oh sappiate che quando siete bendati è veramente brutto perché non sapete cosa che può capitare eeeh vabbè io diciamo che non è poco cattiva questa qualcosa però è un po' fastidiosa no 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 ho già capito cosa se c'è bravo io ti ammazzo eh non secondo me hai capito cosa si è lo smalto non è lo smalto dai su apri la mano dai apri la mano che cazzo fai apri la mano no 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 forse apri gli occhi è rossa e carino è rossa e carino è rossa e carino ma a te sta bello è lo smalto vabbè vabbè t'ho capito prima te devo farla più corta in pratica ho sentito l'odore in pratica oh oh che vuoi? fa cazzate eh ma quelle cazzate ahhh ma che cazzo che fai? che cos'è? piello che cos'è? piello che è? è timote no? è vero povido dimote che è? tieni sentilo basta mi hai bagnato che domenica c'hai sputato sopra è carta bagnata mamma mia oh sei impaticato che schifo c'hai sputato sopra un qualcosa un pazzoletto suo che c'hai sputato ho capito quanto sputo c'ho madonna oh che risuoso c'è un dalai lama mamma mia c'è triste la prossima cosa sarà questo oh oh oddio basta ma che cazzo è il burro d'arco mi sta a mettere il burro ma vaffan... nooo ahah ahah ho bruciato il piede ahah ti ci sta bene fatemi dire fatemi dire oddio ma porca troia aspetta ti devo dare una mano eh eh vada eh no al piede e basta ce l'è un po' qua ok va vabbè ora tocca a me tocca a me tocca a me a vendarmi e tocca a lui a fa... cazzo cazzo adesso io ti metto il dito sopra perchè questa cosa devi toccare con il dito solo col dito devi fare quello che dico io eh ma che faccio le palle di parte che cazzo aaaaaah apri le bottiglie no no che cazzo è? è il cerchio di un tavolo che cazzo è? un portagliavi no no un portabottiglie che ne so no ma sei forestrata cioè sei vicino col portachiavi niente te rendi? si è una per le bottiglie ma l'ho detto non è vero ma l'ho detto ma che cazzo non volevo che vincevi va bene ecco ma sei così ti dico guarda dio ma che è? è il joystick no? oh non ti chiude però lascialo tu ora eh ok adesso sei contento ah si perchè? sii proprio no tu non hai più la sua sicurezza ah si perchè è il fodero delle occhiate no perchè le pelle è qualcosa quella è la fau scena capite? le pelle è qualcosa di grosso penso sia il fodero dell'occhiata vado le pelle è qualcosa di grosso ho detto proprio qualcosa di brutto le pelle è le pelle de capo mortacci tua la scarpa si mortacci tua che schifo che la suona magari è bello come mettere la cenere sopra ma che vuoi dire la cenere è almeno disinfettata e bruciata è disinfettata la cenere la cenere è mega soft si vada a dire non è batteriologica vada a dire a chi fa GCS questo non lo vedrai mai è morbido mamma mia e spingono di più però non so se quanto ti conviene eh è un peluche qualcosa diciamo più o meno però cosa? che è il peluche d'aroma quello che c'hai detto non so non è d'aroma non è d'aroma non è d'aroma si toccalo tutto dimmi di cos'è è un peluche ma cosa? cosa rappresenta questo coglione? un tipo un tipo di? un tipo di coglione cioè che è c'è un po' la forma da coglione eh eh si e che cazzo ne so questi sono mia guarda questi sono due occhi questi sono due mani brutto comunque no è finissimo invece vabbè dai guarda è dalla roma è un pulcino dalla roma no è un gufo ma come è un gufo? è un pulcino non ti ho messo la cascata apriamo cazzo hai già capito senza che ti metto un mano vero? no vero è giusto è fatto io chi è? ahahah ma se fai gli la fa a mettere un mano quasi ma la cazzo di stampella no no come no è la stampella? no non è la stampella giuro è che? che cazzo è? è un bastone eh secondo te è un bastone vabbè vero finito però ah basta ok ecco ma che cazzo infatti non riusciamo a pegare e facciamo così stava gridendo la verità le botte vabbè noi ci vecchiamo ci vecchiamo ci vecchiamo dobbiamo stare vecchi esatto al prossimo video esattamente se vi è piaciuto lasciamo 2.500-3.000 like decidete voi 2.700 per essere 2.500 per essere del mezzo non so che cazzo sto dicendo quindi ci vediamo al prossimo video bella